ciao a tutti oggi un nuovo video no su f15 contro mig 29 addestramento questa volta solo gun lo inseguo volendo potrei usare i misili questi qua ma li tolgo sta rallentando ho toccato appena appena se volete divertirvi usate l'f15 bellissimo in attesa che uscirà l'f15 eagle della rabzam a due piloti questo è uno e lì sarà un bel divertimento veramente quando uscirà quel modulo e l'f15 non perdona mig e a destra potrebbe anche abbattermi ai missili devo prendere velocità perché sennò qui eccolo là sotto l'f15 è molto veloce supera la mac 2 anche lui era come l'f14 stiamo girando il mig vorrebbe chiudermi non penso che ce la farà da lì sto cercando di guadagnare terreno sto spingendo la turbina al massimo vediamo se in chiusura riesco a guadagnare un pochettino si ho guadagnato qualcosa quasi quasi lo abbatto colpito ancora colpito ancora colganna vediamo che danni ha colganna non perdona l'f15 ha un gun potente mi sembra che è a due vediamo dal di fuori mi ha lanciato un missi vabbè per farvi vedere mi ha abbattuto ok dovrebbe avere mi sembra due non so se si vede qui no ok dovrebbe avere due mitragliatori si qua sulle ali adesso mi ricordo si ok ok ho lanciato un missi del giancio del secondo e farvi vedere i missili come vanno ancora ampeggia qui ok ok vogliamo di nuovo però stavolta col gian beh allora quasi quasi un attimo se col gian togliamo anche a lui vuoto così e intanto lo salvo ok e anche io tolgo tutto vuoto ok siamo tutti e due col gian vediamo se da fuori si vede non c'è un missili anche lui ok ok Grazie a tutti. 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 Vediamo con i point. Allora... Così lui viene adesso... Ecco... Ecco... Allora... Allora... E... Allora... 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 Grazie a tutti. 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 Quanto sono le altitudini? Sto guardando i danneggiamenti da... Sono piccoli sfiori da lontano. Ok, si è aperto, va bene così. Facciamo un'altra... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beccia a tutti. Grazie a tutti. Quindi così, quindi... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , 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 ,..., , cazzo ci siamo toccati questo video è tutto reale non è fatto prima è fatto che ci sto giocando sto facendo le cose come se fosse il live perché però potrei fare un live ma vediamo un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.